Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo nella giornata mondiale ONU delle donne e ragazze nella scienza, una giornata importante che ci impone una riflessione ad una sfera più ampia, in quanto alle materie STEM ci rivolgiamo oggi, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, in quanto ambito importante dove affermare l'universo femminile. Questa riflessione perché? Perché nelle Marche, guardando ai dati, su quattro Atenei nell'anno di immatricolazione 2018-2019 risultavano iscritte, sul totale degli iscritti, oltre 6.500 donne in più rispetto ai colleghi uomini e questo prevalentemente orientate a materie umanistiche. Quindi questa giornata simbolica ci impone di riflettere su come l'universo femminile può partecipare di più nel mondo della scienza, ma soprattutto essere inserito nel mondo del lavoro e occupare definitivamente oseremmo dire quegli spazi in cui ci si immagina e costruisce il futuro. Per fare questa riflessione ci siamo rivolte ad autorevoli esperte che ringraziamo, a cui esprimo la mia personale gratitudine davvero di cuore per la disponibilità offertaci. Questa riflessione che condurrò e ho il piacere di condurre oggi tratta diversi livelli istituzionali e quindi dal livello europeo, nazionale, regionale, locale, proprio perché consideriamo che azioni che possano partire dal basso, come in questo caso Osimo Lab con il partenariato pubblico privato con Xplace, abbiano bisogno di indicazioni di autorevoli esperte. Questo perché anche per guardare agli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile tra i 17, di cui ne vedete alcuni qui esposti alle mie spalle, il 4 e il 5 ci sembrano particolarmente significativi in questa giornata, in particolare appunto l'obiettivo 4, istruzione di qualità, sul tema rispetto al quale avremo la testimonianza di talent, ma il più ampio obiettivo 5 è parità di genere. Ecco, affiderei quindi questa apertura alla dottoressa Chiara Pastorino di Banca Intesa San Paolo, responsabile diversity e inclusion di Intesa San Paolo, con un'esperienza ventennale nel campo delle risorse umane e sono davvero onorata, davvero di cuore, lo esprimo anche con affetto, di questa sua partecipazione perché ci consente di proseguire con coraggio e determinazione verso un percorso di valorizzazione del talento femminile in attività che abbiamo realizzato nel corso degli anni con seminari, convegni, però ecco vorremmo rivolgerci anche ad attività di tipo progettuale e capire dall'istituto bancario che indicazioni può fornirci come ente locale per svolgere attività che vadano in questo senso verso la valorizzazione delle donne nell'universo STEM. A lei la parola dottoressa Chiara Pastorino, ringraziandola ancora di cuore per la disponibilità. Grazie Frida di questa bellissima introduzione, ma grazie soprattutto alle Marche, a Osimo Lab per aver invitato me, aver invitato Intesa San Paolo a partecipare a questa bellissima iniziativa che state promuovendo in occasione della giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Siamo molto felici di dare il nostro contributo, di partecipare a un confronto perché è un tema, quello che state affrontando, che ci sta particolarmente a cuore e su cui noi stiamo investendo tantissimo impegno e anche tante risorse. Vorrei iniziare la mia riflessione partendo da qualche dato. Proprio qualche giorno fa stavo analizzando gli ultimi dati sulla disoccupazione italiana e i dati di dicembre sono particolarmente preoccupanti perché c'è un ulteriore calo dell'occupazione e a farne le spese, ancora una volta, sono quasi esclusivamente le donne. Il tasso di occupazione femminile in Italia è il 48,6%, è diminuito più o meno di un punto e mezzo rispetto all'anno scorso, quindi era già molto basso ed è ulteriormente diminuito. Siamo il fanalino di coda dell'Europa. Gli altri stati sono più virtuosi di noi da questo punto di vista. I paesi del nord Europa hanno un tasso di occupazione femminile che sfiora il 70%, quindi capite il gap che c'è e la quantità di talenti e di risorse che non contribuiscono allo sviluppo economico, al nostro PIL, quindi la perdita per il sistema economico che questo dato comporta. Guardiamo ancora meglio questi dati, solamente il 31% delle donne ha un'occupazione in ambito tecnico-scientifico, a differenza del 70% più o meno degli uomini e ci risulta che solo il 5% delle ragazze quindicenni manifestano una preferenza per mestieri di tipo tecnico-scientifico. Questi dati sono veramente dati preoccupanti. Intesa San Paolo occupa oggi circa 100.000 persone, siamo uno dei più grandi datori di lavoro in Italia. Quando uno pensa a una banca, non viene immediato e spontaneo pensare, ebbene oggi la maggior parte della nostra domanda è proprio su questi mestieri. Cerchiamo laureati in fisica, in matematica, in statistica, in ingegneria e quando io vado a fianco al mio collega, io mi occupo come anticipato Frida di diversità e inclusione e quindi mi occupo tra le altre cose di fare in modo che ci sia equità di genere nelle promozioni, nel passaggio a responsabili e nelle assunzioni. Quando vado a fianco al mio collega che si occupa proprio di assunzioni e lui mi guarda quasi con imbarazzo mi dice, Chiara, io le donne non le trovo in queste facoltà. Mi dice non ci sono i bacini, con questo termine tecnico, nel senso che dobbiamo mantenere una parità di genere nelle assunzioni, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché i laureati nelle materie tecnico-scientifiche sono prevalentemente, e in alcuni casi quasi esclusivamente, uomini. Che cosa significa per un'azienda come la nostra? Significa che alcuni mestieri, per esempio nell'IT o per esempio in mestieri del risk, alla fine sono fatti quasi esclusivamente da uomini e questo non è una situazione per noi migliore, perché quello che aziende come la nostra cercano sono ambienti in cui tutte le diversità sono rappresentate, cioè gli ambienti diversificati nella loro natura, che rappresentano generi diversi, età diverse, culture diverse, religioni diverse. Purtroppo necessariamente in alcune situazioni diventano non monocultura, proprio perché c'è difficoltà a reperire dei bacini diversificati. Avere un ambiente diversificato aiuta un'azienda come la nostra a essere di successo, perché possiamo prendere decisioni migliori, perché solamente dal confronto di punti di vista diversi, che vengono da background, sensibilità diverse, riusciamo a essere più performanti. Non sempre questo c'è possibile però, in questa situazione ad esempio, quella che stiamo affrontando tantissimo in Italia, non c'è possibile. Ma come mai c'è questa situazione? Perché sono ancora fortissimi gli stereotipi, sono altissime le barriere culturali all'interno della nostra società, fin dalla famiglia, nella scuola spesso, anche nel mondo del lavoro, che vogliono che ci sia un orientamento delle donne verso materie più umanistiche, verso discipline più umanistiche, verso mestieri di un certo tipo, mentre un migliore orientamento degli uomini verso materie tecnico-scientifiche. Ora, siccome questo assunto è stato smentito dalla scienza, quindi non c'è nessuna spiegazione che ci dice che le donne sono più brave a fare una cosa che gli uomini sono più brave a fare l'altra, dal punto di vista ovviamente del tema di cui stiamo parlando, quindi delle discipline umanistiche verso le discipline tecnico-scientifiche. Il risultato oggi che abbiamo, da un punto di vista sociale, educativo e di conseguenza del mondo del lavoro, è solo il frutto di stereotipi e di pergiudizi che si hanno. Abbiamo molto dibattuto questo tema anche all'interno di Valore D. Valore D è l'associazione delle aziende che si occupa di valorizzazione del talento femminile. E uno dei progetti che abbiamo attivato insieme è stato un progetto qualche anno fa e che stiamo portando avanti con estremo successo, Inspiring Girls. Con questo progetto le nostre role model, cioè le nostre colleghe, in particolare quelle che svolgono mestieri tecnico-scientifici, vanno nelle scuole, nelle scuole secondarie a incontrare i ragazzi e raccontano un mondo diverso magari rispetto a quello che loro, già un po' carichi di pregiudizi, pensano che sia. Portano un messaggio ai ragazzi di seguire i loro talenti, seguire le loro competenze, seguire le loro motivazioni e non i pregiudizi che li vedono portati verso una materia o verso l'altra solo in base all'appartenenza di un genere. Pensiamo che da un confronto diretto con quello che succede nel mondo del lavoro e vedere dei mestieri agiti da uomini e da donne possa essere un messaggio importantissimo fin dalla scuola. E' per questo che con grande entusiasmo noi aderiamo a questo tipo di progetti. Poi abbiamo implementato, proprio per dare il nostro contributo come azienda, attingendo a un senso di responsabilità sociale da una parte. Noi, come ho detto, impieghiamo più di 100.000 persone, quindi abbiamo un impatto sociale importante, abbiamo una responsabilità quindi di incidere da un punto di vista sociale, ma anche perché ci serve come azienda, nel senso che se noi oggi diamo questo messaggio, tra dieci anni probabilmente vedremo i risultati dei ragazzi che si laureano, quindi noi stessi potremo beneficiare insieme ad altre aziende effettivamente di un valore straordinario che arriverà sul mercato. Per portare avanti questo messaggio contro ogni stereotipo stiamo facendo dei bellissimi progetti con le università, uno di questi è seguire direttamente delle studentesse STEM e in parte studentesse anche di economia, perché c'è anche questo pezzo, se vogliamo, di disciplina che anche lì vediamo una prevalenza, in particolare sulla parte finanza, in cui vediamo sempre una prevalenza maschile e non femminile. Ne seguiamo direttamente, abbiamo attivato un programma di mentorship con 43 studentesse delle università del Sud Italia seguite direttamente da nostre colleghe che le supportano, sono accanto a loro, ma soprattutto danno loro una visione del mondo del lavoro, un collegamento col mondo del lavoro. Quindi è un percorso bellissimo, che portiamo avanti con un grandissimo entusiasmo. Io ricevo delle mail certe volte da queste studentesse che sono toccanti, una di queste è una ragazza che era convinta di un percorso di studio in ingegneria, nonostante la famiglia la incoraggiasse a lasciare gli studi e in qualche modo seguire un destino molto diverso, cioè incoraggiarsi a sposarsi e scegliere un percorso esclusivamente familiare senza coltivare invece le proprie passioni, i propri studi e anche una realizzazione professionale. Quindi avere l'opportunità di dare un supporto concreto a queste ragazze, anche con delle borse di studio, perché quello che abbiamo fatto, ci riempie di gioia, di energia, di entusiasmo e dà un senso ulteriore al nostro lavoro. Come dicevo, infatti Intesa San Paolo dà un concreto aiuto anche nelle situazioni di difficoltà, promuovendo delle borse di studio al Politecnico di Milano, in particolare alle Università del Sud, a delle ragazze che intraprendono studi scientifici e tecnici, proprio come segnale pratico del supporto che un'azienda come la nostra intende dare. All'interno poi del, sempre questo filone progettuale di supporto alle donne STEM, partecipiamo a delle iniziative locali, una di queste è STEM in the City, promossa dal Comune di Milano, in particolare dall'assessora alla trasformazione digitale, Roberta Cocco, con cui lavoriamo in partnership, e quindi siamo molto ingaggiati in questo tipo di progettualità. STEM in the City è un'iniziativa che da diversi anni è protagonista di una settimana, clou all'anno in cui diverse iniziative e diverse progettualità raccontano i mestieri STEM e cercano di diffondere una sensibilità verso queste discipline a tutti gli studenti, e in particolare alle studentesse. Per cui siamo invitati e noi partecipiamo con grande entusiasmo a tavole rotonde, incontri, convegni in cui raccontiamo i nostri mestieri, raccontiamo quanto sono importanti all'interno di funzioni anche in cui tradizionalmente i mestieri erano anche diversi. Io faccio l'esempio, io mi occupo del personale, di processi del personale, di strumenti per gestire le persone all'interno di un'azienda, e pensate che all'interno del mio team ci sono matematici, ci sono ingegneri, ci sono fisici, che convivono insieme a colleghi laureati in materie umanistiche, però proprio dal confronto tra queste visioni diverse nasce le decisioni migliori e il team migliore. Quindi questo per dire che anche all'interno dei mestieri più tradizionali queste discipline sono oggi fondamentali. All'interno di Valore D noi promuoviamo questo dibattito, partecipiamo attivamente al comitato STEM, che è un cantiere di lavoro che ha l'obiettivo proprio di capire come incoraggiare ulteriormente l'adesione delle ragazze alle discipline STEM. Ultimamente abbiamo deciso, cosa che appunto faremo in occasione di questa giornata delle donne della scienza, una survey, quindi un'indagine interna rivolta alle nostre colleghe che hanno una formazione STEM o svolgono un mestiere STEM per capire meglio quali sono le loro aspettative, quali sono le loro motivazioni, le loro ambizioni. In questo modo questa survey che verrà lanciata in tutte le aziende che partecipano a Valore D, consentirà di avere un patrimonio informativo importantissimo rispetto a delle donne che hanno già in qualche modo realizzato un sogno professionale collegato alle STEM, ci permetterà di conoscerle meglio e quindi di approntare le iniziative migliori per rispondere da una parte alle loro esigenze, per motivarle, per ingaggiarle, per trattenerle sempre di più, ma dall'altra ci consentirà anche di attivare a livello sociale, quindi anche in collaborazione con gli enti locali e con le scuole con cui collaboriamo tantissimo, di attivare delle progettualità comuni per fare in modo insieme di migliorare questa situazione. E proprio questo è un po' il messaggio che io vorrei dare come Intesa San Paolo agli enti locali, alle istituzioni locali e alle scuole. Noi siamo disponibili, noi come Intesa San Paolo siamo disponibili e siamo anzi entusiasti di partecipare a delle iniziative locali che consentano una maggiore sensibilità a livello sociale e poi in particolare dei giovani verso le discipline STEM, quindi la proposta di iniziative, di scambio e confronto, di incontro diretto tra le nostre professionalità STEM e la società locale, gli studenti, la scuola, gli insegnanti, per noi è arricchente oltre che utile. Quindi la facilitazione di un contatto con le scuole, la facilitazione di un contatto con le famiglie, l'organizzazione per esempio di momenti di dibattito su temi che sono oggi caldissimi, ma perché sono l'oggetto del nostro lavoro, la cyber security ad esempio, ne dico una, tutti i temi ESG, la digitalizzazione, la rivoluzione digitale che noi all'interno della nostra azienda stiamo vivendo, ecco organizzare dei momenti di incontro, di scambio su questi temi per la sensibilizzazione locale e ci danno la possibilità di raccontare il nostro mondo, che è un mondo di tantissimi mestieri, una buona parte dei quali hanno proprio questo background tecnico-scientifico. Ecco, per noi è una grande opportunità, saremo molto felici quindi di coglierla insieme e quindi vi invito a andare avanti in questa anche relazione che vede oggi un momento importante, ma spero che continuerà nel tempo e porterà grandi soddisfazioni. Quindi io ringrazio ancora per questo invito e sono certa che degli eventi come questi sono quello che è poi importante per attivare e migliorare questa sensibilità su questo tema. Grazie molte, è stato un piacere partecipare. Io ringrazio lei, dottoressa Chiara Pastorino, davvero colgo con entusiasmo in questo momento pubblico e ufficiale la sua disponibilità nei nostri confronti e candido già da subito Asimolab come piattaforma progettuale dove poter applicare queste vostre attività e indicazioni. Noi nel corso degli anni abbiamo fatto diverse attività con le scuole a partire dalla consegna di un kit di cubi cartonati rappresentativi appunto dei 17 obiettivi ONU nei nostri istituti locali e abbiamo coinvolto in particolare un istituto locale in una visita a Cambridge per l'incontro con il premio Nobel alla fisica 2019 il professor Didier Chielo grazie all'astrofisica Francesca Faedi che sarà anche lei oggi nostra ospite accompagnando l'astrofisica a una delegazione tutta femminile e il premio Nobel si è anche piacevolmente complimentato per questa cosa e si è prestato anche a fotografarsi con l'obiettivo 5 ONU proprio a dimostrare di essere un testimone anche lui di questa tematica. Ci ha fatto davvero molto piacere pertanto le sue indicazioni su attività come esempi stemming the city, la valorizzazione di aziende in valore D ecco la regione Marco è una regione molto manifatturiera, è imprenditoriale un'impresa ogni 10 abitanti, è la regione della microimpresa 95% a meno di 10 addetti quindi è una regione, un laboratorio imprenditoriale che davvero mi sento di poter mettere a discussione partendo dal locale come Osimo Lab. Oggi qui, poi la salutiamo, siamo ospiti di X-Place che è un'agenzia di comunicazione digitale all'interno della quale c'è in co-working una start-up che si occupa di didattica digitale interverrà anche questa start-up Talent con la CEO Elisa Mazzieri in questa giornata, ecco quindi a dimostrazione che vogliamo partire dal basso nell'applicare azioni, laboratori didattici per seguire le vostre indicazioni. Grazie davvero di cuore dottoressa Chiara Castorino, davvero e ci candidiamo ad attuare le attività che lei c'è intesa di fare. A presto, grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci.